Con gli altri 33 punti messi a segno al paladozza di Bologna contro la Virtus, è salita a cuore 463 complessivi realizzati in stagione, con una media di 20,1 a gara ed il titolo di top scorrere della massima serie cestistica in rosa sempre più nelle sue mani. L'esterna statunitense della Magnolia, Robin Parks, è stata una chiave sinora per il team rosso-blu e vuole essere protagonista anche nelle due restanti gare di regular season, domenica in casa con Boncalieri ed il 26 a San Martino di Rupari. Nel frattempo queste le impressioni sul match contro le Virtusine, neo-leader della Uno. Credo di aver fatto un buon gioco ma penso che avremmo potuto fare meglio, complimenti alla squadra che ha vinto, torneremo ad allenarci per essere pronte alla prossima partita. Ora per la truppa di coach Sabatelli è forte la volontà di mantenere l'attuale sesta posizione e migliorare lo score specifico di 26 punti, così da proseguire nel percorso di crescita rispetto allo scorso torneo.